Ciao ragazzi, eccoci qua, classe E modello 213, piccoli segreti, non tutti sanno che si può guadagnare spazio per caricare i bagagli facendo questa manovra. Qui abbiamo un gancio che solleviamo e guadagniamo questi 5-7 centimetri. Si sposta un po' la seduta ma all'occorrenza si può fare in modo che da così spingiamo avanti e abbiamo guadagnato un po' di spazio. Questo si può fare da tutti e due i lati. Stesso lavoro, lo possiamo fare di qua, sganciamo il sedile, solleviamo questo e richiudiamo. La seduta è un po' più scomoda ma all'occorrenza va bene così. Ciao a tutti, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Ciao ragazzi!